Tracciare un bilancio degli interventi effettuati dalla Giunta regionale e dalla Sfirs di Nogliastra ad un anno esatto dall'indagine sullo stato dell'economia, delle aziende e delle infrastrutture effettuate dalla Confindustria della Sardegna Centrale col progetto Mosaico, un'iniziativa che lo scorso anno ha toccato i poli produttivi della vecchia provincia di Nuoro al fine di individuare criticità e trovare soluzioni ai problemi e ritardi di sviluppo, ma anche per mettere in rilievo le eccellenze produttive che pur con difficoltà riescono a svilupparsi. L'appuntamento dal titolo Le imprese del territorio tra crisi, potenzialità e incompiute è in programma domani pomeriggio a Porto Frailis nella sala conferenze dell'hotel La Bita. Ad analizzare la situazione saranno i vertici della Confindustria Nurese guidati dal presidente Roberto Borgnoli, amministratori locali e consiglieri regionali. Un bilancio che a un anno di distanza non può essere positivo perché le tante promesse fatte dalla Giunta regionale e dalla Sfirs rimangono ancora in evase. La situazione economica dell'Ogliastra sta peggiorando sotto la spinta della crisi generale che attanaglia l'intera isola. Eppure in quel territorio esiste un polo industriale che potrebbe diventare strategico per l'intera economia della Sardegna. Ma le sue grandi potenzialità sono spesso frenate dalle diseconomie di scala, dalla difficoltà del sistema di trasporti e della rete viaria al costo dell'energia. Nel corso della stessa tappa di Mosaico verrà presentata un'indagine che Confindustria ha fatto, sentendo dalla viva voce degli imprenditori i problemi e le prospettive di sviluppo, tra i temi che saranno sottoposti all'attenzione dei politici regionali e locali, lo stato dell'arte e dell'industria turistica e la situazione di stallo in cui si trova lo scalo aeroportuale di Tortolì. Un'infrastruttura dalle grandi potenzialità, ma frenata da tutta una serie di problematiche che invece potrebbe rappresentare la porta d'ingresso in Ogliastra per migliaia di vacanzieri. Insomma, al centro di Mosaico tutti gli argomenti di strata attualità che però nell'ultimo anno non hanno visto modificare la propria condizione di difficoltà, da cui la necessità per Confindustria di richiamare le istituzioni regionali alle proprie responsabilità.